Bologna contro Modena, come nell'epopea della secchia rapita. Epico il pubblico, 50.000. Epico l'incasso, 8 milioni. Dopo la lezione toccatagli con il gol di capello, Corgi blocca il passaggio a livello. Quanto avanti dall'inizio del torneo immunizza la rete. Il sole ha arrostito la crotta del campo come un dolce malcotto. Il fango dà lo sgambetto del medico sul punto di concludere. I rossobre hanno capito l'antifona, infatti Tahiti ha girato ma l'inverno fa un inchino alla russa ma non cade. Azione travolgente, crescendo lo segnalo del quintetto bolognese che Corgi fa terminare in...